Cantiamola? E' Cantiamola, si parte con il 2014 con il Cantiamola, stiamo già cominciando a lavorare ovviamente non sono da solo, non sarò da solo in questa grande avventura uno dei protagonisti di questa vita sarà il presidente dell'Ares, Paolo stiamo cercando di lavorare in maniera, questo non è il Cantiamola il Cantiamola è in cantiere, stiamo già lavorando per renderla ancora più bella e più accattivante dell'anno scorso l'anno scorso siamo andati indifferiti, ma quest'anno andiamo in diretta quindi abbiamo una notizia positivissima, abbiamo il MoloDivariTV.it che ci manderà in diretta quindi sarà bellissimo anche per chi è fuori poter seguire questa manifestazione che è il suo secondo anno consecutivo, cambieremo qualcosina rispetto al primo anno perché abbiamo notato che alcune cose non hanno brillato e noi invece siamo per la perfezione quindi quest'anno sarà ancora più bella dell'anno scorso, sarà ancora più accattivante dell'anno scorso però non vogliamo svelarvi nulla, vogliamo che dovete seguirci passo passo fino a quando poi non verranno pubblicate le date ok, naturalmente noi il 25 andiamo qui il 25 ovviamente è importantissimo perché se noi facciamo determinate azioni lo facciamo solo e unicamente perché I want you noi vogliamo te, noi ti vogliamo e ti vogliamo il 25 maggio il 25 maggio le RSA non me ne frega niente, non andate a votare perché è giusto che sia, ma dopo che andate a votare o prima di andare a votare, come volete l'importante è che il 25 maggio voi vi presentate a digiuno, faccio azione la facciamo passare, vi presentate presso l'RSA perché c'è una grande e importantissima iniziativa dell'Avis c'è la donazione del sangue, noi vi aspettiamo naturalmente, oltre a questa, mi sposto veloce qui per il Gira Mola 2014 e se c'è anche questa, noi, Davis, non stanno a riprendere anche con RMI, ecco, ho preso RMI sì sì sì, e io mi auguro che Mola di Bari TV, sono sicuro, ci sarà anche in questa occasione siamo con la telecamera mobile, col motore ragazzi, state diventando meravigliosi siete grandissimi, noi ovviamente saremo presenti anche qui perché è un'ennesima iniziativa per incentivare ancora una volta la donazione del sangue è importantissimo quindi, subito il 25 maggio, il 2 giugno in bicicletta perché la bici fa bene, ci saremo anche noi andremo anche in bicicletta, spero di andare in bicicletta vediamo un po' quale mansione avrò in questa giornata ma voi state anche alle 20 al castello? poi la sera si torna qui, saremo sull'arena, saremo all'aperto e faremo una grandissima festa con Radio Mola International quindi i migliori DJ, secondo me, di Mola in questo momento saranno lì e faranno ballare tutti quanti in maniera assolutamente gratuita quindi non si paga nulla per andare si balla gratis, ci si diverte grazie basta comprare un biglietto della lotteria e se comprate il biglietto della lotteria rischiate seriamente con un euro, rischiate seriamente di andarvi in crociera per una settimana con la costa a crociera quindi non è che andate con la barchetta a remi è la costa a crociera, targato Avis costa un biglietto, un euro e dai, che cos'è un euro? nulla, però se vincete viene andate in crociera non c'è solo la crociera, ci sono biciclette c'è la serra camp una settimana per far divertire i vostri ragazzi c'è davvero di tutto e di più cos'altro, oltre la serra camp una settimana le biciclette abbiamo le biciclette, un corso di patente gratuito presso la tua scuola Easy Drive e poi abbiamo una settimana di camping estivo per ragazzi dai 6 ai 14 anni come un euro? però un euro poi servirà non lo ripetiamo perché è una cosa importantissima perché non userà soltanto il personale Avis per i donatori Avis ma soprattutto lo useremo per l'ant che sono i malati di tumore che purtroppo devono sostenere spese altissime almeno questo servizio e noi cercheremo di offrirlo in maniera assolutamente gratuita ragazzi, oggi è un divertimento grazie grazie a MolaDipariTV.it grazie all'Avis che è sempre presente grazie a MolaDipariTV siamo tutti i componenti dell'Avis anche io, come la mia parte ciao ragazzi ciao